Intervista migliore in campo parigiano, ho detto bene? Sì, ho detto bene, perché ho sempre difficoltà a dire i cognomi. Migliore in campo Evolution Team, vincono penso 7-5, mi sembra 2-2 con di vantaggio, contro Yo Blacks, una squadra anche molto ostica, bravini, complimenti parigiano. E secondo lei, qual è la motivazione per chi è stato scelto migliore in campo? Ah beh, penso che a parte i tre gol che ho fatto, mi sono messo a disposizione della squadra, cosa che ho fatto un po' meno la volta precedente. Ho capito. E abbiamo giocato, comunque... C'è il fratello, c'era la volta precedente. Comunque abbiamo giocato, è stata una partita molto combattuta. Ho capito. Senti, Valegiano, vuoi ringraziare a qualcuno? A chi dedichi questa nomina? Vabbè, la vittoria la dedico al mio migliore amico, nonché capitano di questa squadra, Armando Destacio. Ci stanno commuovendo tutti gli spettatori. E comunque, dà l'anima in questo torneo e... Complimenti, complimenti, Valegiano. Facciamo pure una ripresa a tutti. Un'altra persona, dai, per un'altra persona. Dai, qualcuno all'esterno del torneo, chi vuoi ringraziare? Mariano De Vivo, Mariano De Vivo. Voglio ringraziare anche mio fratello Giuseppe, che oggi non è potuto venire. Vabbè, grazie ragazzi. Complimenti, Luciano Team. L'ultimo è in bocca a l'uva, è tutto in proseguenza mio. Ciao ragazzi, ciao. Grazie.